L'altro incontro di cartello nel giorno C di promozione è quello tra i clanese e Baiano. La seconda della classe è pronta a sfidare i granati di sgambati che stanno cercando di rimanere aggrappati al gruppo playoff e provando a scippare l'ultimo posto utile occupato ora dal Paolisi. Tra l'altro stanno vivendo entrambe lo stesso momento di forma se si considera che nelle ultime 5 gare sia Ruggero e Compagni che davanzo di suoi hanno conquistato 10 punti. Non sarà quindi impresa facile per nessuna delle due riuscire a portare a casa l'intera posta in palio. Martino dal canto suo si affiderà alle clanese totale che continua a mandare in gol tanti elementi da Ruggero a 40 passando per Cioffi ed Orefice fino a 5 e Bolognese. Il Baiano ha i suoi due uomini cardine d'avanzo 11 correalizzati e un titolo di capo cannoniere da conquistare e Colucci elemento di maggiore estro presente in organico. Una sfida aperta ad ogni tipo di risultato ma che la formazione di casa deve gioco forza vincere se vuole provare a lottare ancora per il successo finale. Un capo chiuderebbe quasi sicuramente ogni discorso relativo al primato.